Giallazzaro Sanna, benvenuto a Momenti. Ciao Giovanni. Come stai innanzitutto? Benissimo, diciamo che a parte il momento un po' così, ma sto riuscendo a reggere bene. Benissimo, bene, bene, ci serve carica, ci serve carica. Senti, allora io non anticipo nulla rispetto alla passione di cui parleremo oggi, quindi ti lascio un po' di spazio per presentarti e poi vediamo se anche chi ci guarda indovina di cosa parliamo. Ok, va bene, diciamo che sono arrivato alla veneranda età di 60 anni, anzi per la precisione ne ho compiuto 61 qualche giorno fa. Ha un buon irritato allora. Grazie. Partiamo, diciamo che la mia vita, carriera, le cose interessanti sono iniziate quando ero ragazzo. Da ragazzo giocavo a scacchi, sono stato un ottimo, diciamo, giocatore di scacchi, tra i primi giocatori italiani per una decina d'anni. Ho giocato alle Olimpiadi, insomma è stata una passione che mi ha arricchito particolarmente, mi ha permesso di viaggiare. Insomma, un'esperienza decisamente interessante e formativa, perché gli scacchi aiutano tanto proprio anche a livello di logica, per cui mi hanno aiutato successivamente, a parte gli studi che è la cosa più banale, ma anche nella vita, diciamo. Poi nella vita principalmente che cosa ho fatto? Sul lavoro sono un informatico, l'altra mia passione, io sono una delle grandi passioni, che magari un po' si alternano perché le mie passioni sono forti e quindi richiedono anche molto impegno, per cui scacchi poi a una certa età, devo dire a, non mi ricordo bene, ma forse 25-26 anni, qualcosa del genere, ho smesso di giocare, perché sostanzialmente era un impegno troppo grosso. Praticamente tutti i giocatori del mio livello erano professionisti, i tornei di scacchi duravano due settimane, tre settimane, quindi quando uno poi inizia a lavorare alla fine, insomma, deve darci un taglio. Deve fare una scelta, insomma. Esatto. E io ho deciso e capito che comunque gli scacchi non davano da vivere e quindi per quanto una cosa bellissima alla fine ho rinunciato. Poi informatica, altra grande passione, per cui diciamo la fregatura è che il mio lavoro mi ha assorbito comunque tanto perché era qualcosa che mi piaceva, che avrei fatto anche gratis praticamente e quindi anche lì grande, grande passione. Poi negli ultimi, diciamo 4-5 anni è un po' diminuito l'impegno lavorativo per tanti motivi e per fortuna perché era decisamente troppo, quindi adesso sto vivendo meglio, molto più tranquillo, molto più sereno, molto più felice e in questi ultimi anni mi sono dedicato a un'altra passione, un altro gioco. Io sono sempre stato per le cose, giochi, giochi barra sport, gli scacchi ormai sono considerati uno sport, ma appunto ultimamente mi sto dedicando al Backgammon che sono un gioco che per certi sono un gioco banale, dice vabbè ti ridadi tanto se sei fortunato vinci, ma in realtà sono un gioco complesso che richiede un impegno, un livello di comprensione molto elevato ed è l'aspetto che mi interessa a me, non interessa vincere ma interessa capire il gioco e infatti sto studiando da quando ho iniziato e sto continuando a imparare. Anche qui sono arrivato a un livello abbastanza buono, ho giocato, gioco nella squadra nazionale, ho fatto campionati del mondo a squadra, insomma diciamo che quando mi ci metto mi piace fare le cose. Se è passione è passione. Esatto. In più ultimamente ho unito al Backgammon anche un po' la passione, c'è un misto tra Backgammon e informatica, ho aperto e mi sto dedicando anche a un canale YouTube sul Backgammon in cui presento appunto, faccio delle dirette commentando delle partite, c'è una parte didattica in cui spiego alcuni aspetti del gioco e così via. Per cui se c'è una cosa che non mi è mai capitato nella vita è stata quella di annoiarmi. Ho sempre fatto per grande fortuna delle cose che mi sono piaciute tantissimo e sono felice. Bene, bene, bene. E allora quindi come penso ormai avranno capito oggi parliamo di Backgammon e è una puntata a cui io tengo molto perché è una di quelle puntate in cui io parto da zero. Cioè io non so nulla sul Backgammon, ho provato a vedere qualcuno dei tuoi video ma ho fatto un po' di fatica, ti dico la verità, ma non tanto per le spiegazioni proprio perché sento che mi manca qualcosa, mi mancano proprio le basi e quindi parto così. Tu come ti sei avvicinato al Backgammon? Come l'hai scoperto? Giusto una cosa, in effetti il canale Backgammon non è per principianti. Sto pensando di aggiungere proprio un corso per principianti in cui spiego il gioco, ma è più dedicato ai giocatori già forti. Grazie. Ai giocatori già forti, per dire seguito dai migliori giocatori italiani, per darti un'idea. Quindi diciamo come mi sono avvicinato al Backgammon? In realtà ho imparato a giocare probabilmente vent'anni fa perché con gli scacchi ho comunque sempre frequentato un gruppo di amici che avevano la passione per i giochi di logica di questo tipo. E quindi qualcuno aveva imparato a giocare a Backgammon? Ah ti insegno, ti insegno. Ah sì interessante, in effetti molto interessante, però ho sempre giocato poche volte all'anno diciamo. Negli ultimi anni invece così è capitato che ah dai partecipiamo al campionato italiano online. Quindi ok proviamo, mi è piaciuto, poi da lì ho visto anche che riuscivo a giocare a un certo livello, quindi ho continuato a imparare, a migliorare. Poi un annetto dopo sono andato a fare il mio primo torneo live. Allora io considero, scacchi Backgammon, considero tornei veri quelli fuori Sardegna. Ok. Perché in realtà in realtà io ho sempre giocato a livelli molto buoni per cui in Sardegna praticamente non ho quasi mai avuto avversari all'altezza, per cui i tornei importanti erano quelli fuori. E quindi ho fatto il primo torneo fuori, ho giocato con alcuni tra i più forti giocatori italiani, mi sono reso conto che la cosa mi piaceva. Ho rivissuto le sensazioni che avevo vissuto 30 anni prima a scacchi. Mi è piaciuto tantissimo e da allora appena capita, adesso a parte quest'ultimo periodo che ovviamente è problematico, se posso prendo, parto e vado a farmi un torneo. Vantaggio del Backgammon che contrariamente agli scacchi un torneo dura il fine settimana, per cui si può fare, anche dalla Sardegna si può fare. Benissimo. A questo punto, visto che hai maturato tanta esperienza, secondo te quali sono le caratteristiche che un giocatore di Backgammon dovrebbe avere? Cioè una persona che si approccia al Backgammon. Allora, parliamo di giocatore di Backgammon che vuol diventare forte, perché allora Backgammon ha il vantaggio ad esempio rispetto agli scacchi che si impara in un attimo. Cioè se io ti spiego, guarda le pedine muovono così, tiri i dadi, fai la mossa, nel giro di 10 minuti tu sei in grado di giocare la prima partita. Ovviamente una cosa è giocare, una cosa è capire il gioco e giocare a un certo livello. Quindi per me giocare, come anche a scacchi, era giocare a un certo livello. E lì ci vuole un approccio, secondo me, matematico, perché ancora molto più degli scacchi. Per me gli scacchi più che un gioco di matematica sono un gioco di logica. Backgammon è un gioco di logica, ma c'è anche tanta matematica e calcolo delle probabilità. Quindi ci sono questi aspetti. Devono piacere, altrimenti uno dice no, ma io voglio divertirmi, tiro i dadi e basta, mi diverto, perché è un gioco che molto più degli scacchi dà comunque un'adrenalina, un senso di competizione alto che dà comunque soddisfazione e può essere sufficiente per giustificare appunto una passione. Ripeto, se si vuole arrivare a un certo livello occorre studiare, approfondire, capire le logiche che ci stanno dietro. Cioè non giocare mossa per mossa, ma avere dei piani. Quello differenzia il giocatore, diciamo, della domenica, dal giocatore forte. Ok, benissimo. Beh, allora mi sa che bisogna applicarsi. Ecco, cioè non è una cosa che puoi fare magari solo con l'esperienza. Ci deve essere dietro anche uno studio. Tranquillamente giocando e con l'esperienza ti diverti, ti diverti tantissimo e puoi giocare tranquillamente. Se ambisci ad arrivare tra i primi giocatori italiani, devi fare qualcosa di più, ma un po' un po' in tutto. Ti diverti anche però con poca esperienza e senza studiare. Questa è la differenza ad esempio rispetto agli scacchi. Scacchi richiede una fase di apprendimento iniziale molto maggiore. E i tornei come funzionano? Cioè c'è una delegazione regionale, poi nazionale, oppure come si articolano? Diciamo che è un po' meno strutturato rispetto agli scacchi. Scacchi c'è proprio una federazione iscritta ai CONI e così via, quindi è più strutturato. Backgammon un po' di meno, comunque non è proprio una federazione, però c'è un'associazione nazionale, ci sono i circoli nelle diverse città e quindi vabbè si può giocare in locale nella tua città, almeno se sei nelle città principali non c'è un circolo in ogni città. E poi ci sono i tornei nazionali organizzati dalla associazione. Io la chiamo federazione perché anche se non è federazione la vedo come federazione, è proprio un approccio. Io faccio parte anche del consiglio direttivo nazionale e il mio approccio è a livello di federazione, cioè qualcosa di strutturato e quindi ci sono i diversi livelli. Ok, ti faccio una domanda che insomma mi è venuta adesso in mente mentre parlavi. A proposito dell'esperienza, dello studio, è più importante ricordarsi le vittorie o le sconfitte a Backgammon? Perché ci sono degli sport in cui imparare dagli errori è molto più importante rispetto a vedere cosa hai fatto di buono per poi migliorarlo ancora di più. Secondo te nel Backgammon si impara di più dagli errori o dalle partite vinte diciamo? Secondo me si impara di più dagli errori sicuramente. Le partite vinte servono comunque a dare sicurezza che anche quella è molto importante. A volte portano sulla cattiva strada perché danno troppa sicurezza. Backgammon è un gioco in cui serve tantissimo equilibrio perché ci sono dei cambi, dei capovolgimenti di fronte continui per cui una partita passa dall'essere vinta all'essere persa in un attimo con i dadi e quindi è molto importante mantenere un equilibrio, una sicurezza in se stessi in come si sa giocare e non farsi condizionare troppo dagli eventi. Quindi mantenere una freddezza e una capacità di ragionamento che non devono essere condizionati dal fatto che sono venuti due dadi cattivi di fila. Questo non significa che anche il terzo sarà cattivo. Per cui servono tantissimi aspetti. L'aspetto psicologico è importante. Ci sono giocatori che capiscono benissimo il gioco ma poi messi davanti alla tavola si perdono, non rendono quanto potrebbero perché gli manca quella componente agonistica di concentrazione e di equilibrio psicologico. Questo aspetto è super interessante e tra l'altro mi stimola una domanda. Ci sono dei corsi per imparare, cioè corsi strutturati in cui magari si parla anche dell'aspetto psicologico, dell'aspetto non solo di tattica, di tecnica? Allora diciamo che a scacchi ci sono arrivati ai miei tempi corsi erano quasi quasi zero. Adesso a scacchi insegnano nelle scuole quindi corsi se ne trovano tantissimi. A Beggemon siamo ancora abbastanza indietro. Cioè ci sono degli esperti che danno delle lezioni private anche con ormai canali telematici però corsi veri e propri non se ne trovano molti. Ad esempio io nel mio canale YouTube faccio delle lezioni ma sono più che altro estemporane, cioè sono su un aspetto particolare ma non sono strutturate nella forma di corso. Ce ne sono molto pochi corsi veri e propri. E anche come libri non è facile trovare in italiano c'è pochissimo, in inglese c'è di più ma non tanto a livello di corso poco. E allora guarda mi aggancio effettivamente al discorso del canale. Cosa ti ha spinto ad aprire poi il canale YouTube? A parte se è solo la passione per l'informatica e quindi metto insieme queste due cose oppure c'è anche parte di questo aspetto che ci siamo appena detti? Cioè voglio passare una conoscenza rispetto a questo sport? C'è un mix di aspetti. Uno mi piace, a me piace molto insegnare e trasmettere. Questo in tutte le cose, scacchi, informatica, cioè mi è sempre piaciuto. Ho insegnato anche per sette otto anni all'università e mi piaceva proprio il contatto con gli studenti è trasmettere le mie esperienze e conoscenze. Mi piaceva tantissimo. Ad esempio uno dei commenti tipici ormai all'università, a parte il professore che giudica gli studenti, ci sono proprio le schede a fine anno in cui gli studenti danno il giudizio sul professore. E il giudizio è che secondo me è una cosa estremamente interessante. Infatti molti professori non le vogliono neanche vedere. Io andavo sempre a chiederle, dicevo no no io voglio vedere, mi interessa sapere come vedono quello che spiego perché così posso migliorare e adattarlo a quello. Cioè io non è che devo spiegare per fare bella figura io, no. Devo spiegare per far capire agli studenti perché se gli studenti mi dicono che non hanno capito e che non serve a niente quello che spiego, beh vedo di modificare. Il commento tipico era il professore è chiarissimo, si spiega benissimo, si capisce tutto. Questo era il commento più proprio tipo 80-90%. Cioè si vede che proprio l'insegnamento probabilmente ce l'ho nel sangue insomma. Quindi sicuramente questo aspetto, ma in realtà è partito parecchi anni fa semplicemente come posto per conservare i video delle mie partite. Allora io già da anni cosa faccio? Quando gioco riprendo con la telecamerina la tavola con la partita. Perché? Mentre a scacchi si segnavano le mosse, eri obbligato a segnare le mosse, per cui tornato a casa poi potevi ricostruire la partita, vedere i tuoi errori e così via. A Beggemon non è così, per cui o ti registri la partita oppure poi non sai, sai se hai vinto ma non sai se hai giocato bene, quali sono gli errori che hai fatto e quindi impari poco. Quindi io sin dall'inizio registravo le mie partite per poi riesaminarle con i programmi sul computer. E quindi inizialmente il canale nei primi anni era semplicemente il repository dei filmati delle mie partite, senza alcun commento eccetera. Poi ho iniziato ad aggiungere così per divertimento, ma per imparare io esaminavo una posizione e la commentavo. Quindi dicevo allora qua ecco questa posizione bisogna riflettere così, quindi si fa così, si deve pensare così eccetera. Ad uso personale, infatti non erano neanche video pubblici. Poi che cosa è successo? Che con la pandemia praticamente partite live non ce n'erano più, ci si è spostati quasi totalmente, esistevano già anche le partite online, ma ci si è spostati proprio sull'online e basta. E allora per cercare di tenere unito il gruppo dei giocatori italiani, che cosa abbiamo detto? È stata una mia proposta ma è subito piaciuta. Perché non mettiamo su YouTube, non facciamo i commenti delle partite in diretta e poi magari dopo aggiungiamo anche... Ah sì 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 proviamo, abbiamo provato, è piaciuto tantissimo e quindi da lì siamo andati avanti con le dirette. Dirette che non facevo soltanto io, chiaramente coinvolgevo altri tra i più forti giocatori per cui connessione Skype, quindi commento e così via. Poi ho continuato a fare i video didattici, questa volta l'ho fatto con più... più regolarmente diciamo, che servivano tendenzialmente a me per imparare, perché ovviamente se uno deve spiegare agli altri impara anche, servivano tantissimo agli altri per imparare, mi è piaciuto, mi divertivo e sono andato avanti. Oltretutto è stata un'occasione anche per imparare tantissimo nel campo audio, video e così via. Si fa in fretta a dire informatica. Informatica sono tantissime cose, ma io di audio e video non sapevo niente. Adesso insomma qualcosina in più la so ed è stato anche quella un'esperienza divertentissima. Ottimo, ottimo anche perché poi permette davvero... è un ambito che permette di crescere costantemente, di stare al passo col tempo e di portare avanti anche questa... nuove frontiere diciamo di questo sport, insomma di questa passione. Quindi credo sia davvero importante stare al passo, rimanere sempre vigili e aggiornarsi continuamente. E infatti una delle motivazioni che mi hanno comunque spinto al Beggemon e un po' anche a questa cosa di YouTube è stata, vabbè, la pensione, l'età della pensione tutto sommato si sta avvicinando. Così dice l'anagrafe. Io per me mi sento ancora un ragazzo. Per cui avere una passione di questo tipo è una garanzia per la pensione. Sarà bellissimo. E quindi infatti io dico sempre aspettate, aspettate che arrivi in pensione, poi avrò più tempo da dedicare. Bene, bene. Senti, quindi ora a parte la pensione, rispetto ai progetti hai in ballo qualcosa? Beh, diciamo che in ballo che cosa c'è? Sempre continuare a migliorare, poi a Beggemon come a Scacchi ci sono i titoli internazionali, quindi con certi risultati nei tornei si cresce anche come titoli, quindi c'è anche quello che non è tanto come riconoscimento ma è uno stimolo sempre per il miglioramento. Ad esempio a Scacchi io ho abbandonato quando ero vicinissimo a un titolo prestigioso, quello di maestro internazionale. Praticamente avevo la forza e mancava pochissimo. Infatti tutti continuano a chiedermi a distanza di 30 anni, ma come hai potuto smettere? Ce la potevi fare? Sì, ce la potevo fare, ma tanto sapevo che avevo, che la mia forza era quella. A me di avere il riconoscimento del titolo non interessa, non me lo devo né appendere nello studio né farlo vedere agli altri, per cui vabbè ho deciso che non mi stavo divertendo più, basta. Esistono tante altre cose nella vita e basta. E quindi diciamo che a Backgammon sono ancora in una fase di crescita in cui sto ancora imparando, mi diverto tantissimo. Quindi in programma, partecipazione a eventi internazionali, quindi sto aspettando che si riaprano le frontiere per fare, spero, il prossimo campionato del mondo a squadra, ad esempio, e così via. Tra due anni, anzi tra due anni, ormai il prossimo anno ci sarà il campionato del mondo a Venezia. Insomma, diciamo che ce n'è assolutamente. Bene, bene. E allora io, a parte chiaramente invitare tutti a guardare il tuo canale, a visitarlo, a farsi un giro, a iscriversi. Insomma, ti ringrazio tantissimo davvero per questa chiacchierata e ti faccio un grande in bocca al lupo chiaramente per questo percorso che hai davanti. Grazie tantissime e anche a te tanti auguri per il tuo canale. Ho dato uno sguardo molto interessante, un bel lavoro. C'è tanto da fare, lo so perché io sto dedicando del tempo, però vedo che anche tu hai passione, quindi è una cosa bella, quindi i miei migliori auguri per andare sempre avanti. Grazie, grazie. Ciao Gianlazzaro. Ciao e grazie a te.